Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Qualche giorno fa abbiamo visto l'unboxing di questo, ovvero il nuovo studio display di Apple. Un monitor proposto a 1799€ che ha fatto parecchio parlare di sé proprio per il prezzo decisamente non economico, ma soprattutto per le caratteristiche che a quanto pare non sono all'altezza del cartellino proposto da Apple. Oggi però non sono qui per la recensione definitiva, che arriverà a breve, ma sono qui per togliere un dubbio, ovvero Cosa succede se colleghiamo un PC da gaming allo studio display? E soprattutto come facciamo, visto che non ha tasto di accensione, non ha ingressi video come DisplayPort o HDMI? Cosa succede? Funziona? Sì? No? Cosa dobbiamo fare? Qui abbiamo già tutto pronto. Abbiamo un PC da gaming che è quello che ho utilizzato per il tutorial, 12900K, 3080, eccetera. Abbiamo mouse, tastiera e lo studio display, ovviamente. Come dicevo poco fa, questo monitor non ha effettivamente ingressi video tipo HDMI o DisplayPort e l'unica connessione che possiamo utilizzare è quella Thunderbolt. Quindi l'unico modo per poter avere un segnale video o avere anche altre funzioni è quello di utilizzare una porta Thunderbolt. Se non ce l'avete nel PC non può funzionare, in nessun modo. Colleghiamolo qui dietro, ci sono due porte Thunderbolt e vediamo cosa succede. Come potete vedere si è acceso lo schermo senza problemi. L'autoconfigura e praticamente potete utilizzare tutte le sue funzioni, o quasi, perché sembra troppo bello detto così. Funziona la webcam, funzionano gli altoparlanti e funziona la risoluzione piena 5K. Ci sono dei però, ovviamente. La webcam potete utilizzarla, ma non funziona center stage. Utilizza solo la porzione centrale, un po' come abbiamo visto nell'unboxing ieri. Per ora non c'è modo di attivarla, vediamo se in un futuro con magari qualche driver dedicato o pubblicato da Apple, ma la vedo dura. Per quanto riguarda gli altoparlanti funzionano, funzionano bene, ma non funziona lo special audio, quindi non potete utilizzare quelle funzioni. Poi per quanto riguarda le impostazioni del monitor, nonostante funzioni ai pieni 5K non potete fare nulla. La risoluzione è sì, 5120x2880, ma non potete cambiare praticamente nessuna impostazione. Non potete regolare la luminosità, non potete cambiare il profilo colore, perché avviene tutto tramite software. Cioè potete fare delle calibrazioni con dei profili di Windows, ma non è proprio la stessa cosa. La risoluzione, come ho detto, è piena e viene impostata automaticamente con la scala al 200%, perché se la impostate al 100% è inusabile. Cioè i 5K sono troppi per un 27 pollici. Su Windows la scalatura è terribile. È una delle cose peggiori che abbiano mai creato e chi dice che non è così è un bugiardo. Su Mac invece la scalatura è perfetta, è incredibile. Non solo con lo studio display, ma con qualsiasi monitor potete regolare l'impostazione delle dimensioni, delle scritte, di tutto quanto, e vengono sempre perfette. Non so perché Microsoft non ci riesca. Per farvi vedere un esempio di implementazione veramente stupida e terribile, apro un gioco. Perché essendo un monitor potete anche magari giocarci, oltre che guardare filmati o altro. Ecco, questo è il launcher di Valorant. E come potete vedere la scalatura qui non funziona. Cioè è un francobollo all'interno dello schermo. Potete giocare, potete fare tutto quanto, ma le scritte su alcuni programmi che non sono sviluppati per funzionare con la scalatura sono terribili. Poi all'interno dei giochi in realtà non ci sono grossi problemi. La risoluzione viene sfruttata al 100% e potete giocarci. Adesso è a 3840x2160 perché è la risoluzione più classica, ma potete utilizzare anche quella piena. Quindi 5120x2880. Ovviamente si tratta di un 60Hz. Come potete sentire anche l'audio funziona senza problemi. Andiamo in una pratica al volo, così vi faccio vedere. È abbastanza fluido. È un classico 60Hz. Non c'è tanto ritardo. Il gioco funziona. C'è un po' di input lag. Ovviamente stiamo giocando a 5K, quindi mette sotto sforzo sicuramente la scheda video. Però diciamo che il gioco è abbastanza leggero. Il mio mirino in questo caso è microscopico perché è impostato per una risoluzione full HD. E praticamente non si vede, sembra tipo un micropuntino. Però il gioco funziona. Cioè si può giocare tranquillamente e si vede in una maniera spaventosa. Ogni tanto c'è un po' di tearing, ma non spaventoso. Si può utilizzare tranquillamente per giocare, ma di sicuro non per dei giochi competitivi. O almeno non mi sentirei di consigliarlo. Se però vogliamo giocare a un gioco con il pad o non competitivo e vogliamo goderci la grafica, devo dire che è spaziale. L'ho provato ad esempio con Elden Ring, che tralasciando le problematiche sue di ottimizzazione su PC non è proprio il massimo. Cioè la grafica è ottima, ma il gioco ha un po' di problemi. Ragazzi, 5K su un 27 pollici. Vi assicuro, 5K su un 27, ragazzi, è una cosa spaventosa. Ha un dettaglio. Cercherò di farvi vedere con una ripresa. È mostruoso. Sabaku si metterebbe a piangere in questo momento. Praticamente non potete distinguere i pixel. È veramente fighissimo. E come potete sentire anche l'audio funziona correttamente. Guardate. Non so i tasti perché sono abituato a utilizzarlo con il pad. L'audio funziona perfetto come anche il video. E sono sempre più impressionato dagli altoparlanti di questo monitor. Ovviamente, come dicevo prima, non funziona l'HDR, ma non funziona neanche su Mac perché proprio non è stato pensato per questo monitor. E devo dire che, in realtà, qui abbiamo qualche piccolo problema di ottimizzazione per quanto riguarda la scheda video, per il passthrough, perché probabilmente viene sfruttata la scheda video integrata e con alcuni video in 8K, diciamo che tentenna. Quindi penso sia un po' un problema di ottimizzazione di Windows. Sicuramente non è colpa del monitor in questo caso. Altra cosa, come dicevo prima, la webcam funziona e anche il microfono. E funzionano praticamente allo stesso modo che su Mac. Purtroppo non abbiamo appunto Center Stage. Il microfono l'ho provato e mi sembra molto simile alla registrazione fatta su Mac. Quindi da quel punto di vista non ci sono problemi. A questo punto mi sento di consigliarlo per utilizzarlo con Windows? Probabilmente no. Cioè, se volete utilizzarlo per qualche motivo, vi piace la forma, vi piace la qualità video, vi piace il fatto di avere la webcam integrata, degli altoparlanti ottimi, eccetera, e avete tanti soldi da spendere, allora a quel punto nessuno vi può dire niente. Compratelo e non avrete problemi. Personalmente vi consiglio di rimanere su un monitor classico perché avete più controllo un po' per tutto. Anche semplicemente per cambiare le impostazioni, la luminosità, eccetera, cosa che in questo caso non potete fare. E soprattutto potete tenere un bel po' di soldi in tasca. Ci sono tanti monitor anche costosi, ad esempio quello che c'è lì dietro costa 3500 euro praticamente di Asus, però è 34 pollici, 200 Hz, wide QHD, ha 512 zone di illuminazione, ha tante cose, ha G-Sync, eccetera. Ha tante cose che assolutamente non giustificano il prezzo, ma con un PC Windows o soprattutto un PC da gaming riuscite a sfruttare decisamente di più. In questo caso pagate praticamente l'estetica perché il vantaggio principale di questo monitor è sfruttarlo nell'ecosistema Apple con la ricarica tramite Thunderbolt, con tutto, con un cavo, non avete problemi, funziona semplicemente, con il fatto di avere center stage, i controlli automatici tramite software, eccetera. Per me è stata un'esperienza positiva? Sì e no. Sì perché almeno funziona. E davvero grazie. Almeno se uno vuole utilizzarlo ha l'opzione di utilizzarlo. Non so perché dovrebbe farlo, ma si può fare. Quindi ragazzi, da Blink è tutto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate con un bel commento. In descrizione trovate maggiori informazioni su quello che ho utilizzato e fatemi sapere soprattutto se qualcuno di voi potrebbe essere interessato a utilizzarlo con Windows e perché ovviamente. Quindi da Blink è tutto, ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao! Vi ricordo che è disponibile BlinkMyPC, il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile, realizzando configurazioni personalizzate oppure scegliendo tra quelle proposte in base al prezzo desiderato. Ovviamente non mancano le offerte in tempo reale, recensioni, articoli e il merchandise. Trovate il link in descrizione.